musica domanda qui giù nei commenti così potrebbe appunto apparire nei prossimi episodi delle FAQ quindi nulla io come al solito vi ricordo di lasciare un piacere questo video per supportarmi e iscrivetevi al canale se non siete ancora per non perdervi i nuovi video raggiungiamo raga almeno 250 like e vi porto appunto il prossimo episodio delle FAQ e nulla iniziamo subito con le domande la prima domanda ragazzi ce la fa Luca Ardimento che ci chiede FAQ ti hanno mai chiesto una recovery gratis si qual è stata la correzione bella Fox sei un grande salutami please allora ciao Luca si mi hanno chiesto una recovery gratis farei prima a dire quante persone non me l'hanno chiesta perché ragazzi ho tipo 747 milioni 767 persone che mi cadono in recovery gratis e io vi dico cosa possono dire quando io appunto gli dico che io dico no io non faccio recovery gratis e lui giustamente dice volpe di merda se fai schifo dislike dislike adesso vado sul tuo canale ti bombardo di dislike ti metto tantissimi dislike eccetera 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 quindi la mia reazione non è è affatto buona quindi meglio se non la dico nel video perché meglio di non insomma comunque passiamo ragazzi alla prossima domanda che ce la chiede lollo 1400 2001 che ci chiede FAQ faremo unilobby su PS4 bella Fox sei un grande ti ringrazio lollo e sei tipo la settantesima persona settantesima mille beh insomma sei una delle tante persone che me l'ha chiesto e si raga non esistono mod su PS4 c'è inutile che me lo chiedete cioè non è che me la posso inventare che vado lì metto la modifica ci metto il chip la usb metto lì a modificare cioè raga non ci sta la modifica per PS4 non me la posso inventare quindi non ci stanno modifiche per PS4 quindi non chiedetemi nemmeno money lobby su wall jam cioè su xbox 360 su ps3 ragazzi io ho smesso per adesso di fare money lobby quindi evitate di scrivermi giù nei commenti Fox ma quando è che mi fai che mi dai soldi gratis per piacere Fox ti prego sono povero xdxd1 1 1 1 ragazzi mi dispiace ma io non posso fare money lobby quindi adesso ragazzi non farò più money lobby fino a che smetterete di chiedermelo poi un giorno mi alzerò e dirò vabbè faccio la money lobby però ragazzi smettetemela di chiedere per favore è un favore ragazzi perché sennò impazzisco veramente comunque prossima domanda ce la chiede Cristian catalano che ci chiede fuck da quando hai cominciato a giocare a GTA 5 bella Fox sei il migliore allora ti ringrazio per il complimento Cristian ora mi chiede appunto da quando hai iniziato a giocare a GTA 5 più o meno è stato per Xbox 60 ovviamente il gioco l'ho acquistato praticamente subito dopo l'uscita più o meno due o tre giorni dopo l'uscita super giù adesso non è che mi sto a ricordare di preciso perché è passato veramente tanto tempo però sicuramente all'inizio dell'uscita comunque prossima domanda ragazzi ce la fa xx gta5 xx che ci chiede fuck che classe fai che tipo di indirizzo fai bella Fox allora bella gta5 xx gta5 xx allora che classe faccio e che tipo di indirizzo faccio allora io ragazzi faccio il quarto superiore e appunto l'indirizzo è informatico quindi insomma informatica indirizzo informatico prossima domanda ragazzi ce la fa phantom phantom 49 ok ce l'ho fatta che ci chiede fuck cosa ne pensi di youtuber che registrano i video a bassa qualità bella Fox e continua così ovviamente lo youtuber in questione che registra a bassa qualità al 100% farà gameplay di minecraft oppure insomma di fifa pack opening cose del genere quindi nemmeno sto attire insomma in più fanno le stesse cose che fanno praticamente tutta youtube italia e non solo registra pure a bassa qualità direi proprio che non è non si può definire youtuber perché comunque sia se fai comunque video a bassa qualità ma comunque ci metti impegno nell'editing insomma ci sai fare eccetera eccetera va bene insomma non è che ho nulla da dire però quello che mi va a registrare il gameplay di minecraft con visuale lontana 567 mila chilometri parla praticamente cioè insomma all'età media di 7 anni comunque non è uno youtuber è semplicemente uno che ha aperto un canale così senza traguardi seri insomma senza così senza serietà l'ha aperto perché non c'è nulla da fare quindi non credo che si possa definire youtuber niente ti ringrazio Phantom per il complimento prossima domanda ragazzi ce la fa Yax Channel che ci chiede fuck ci sarà il Games Week allora ragazzi io probabilmente non ci sarò al Games Week e molto probabilmente sarò a Romics però ragazzi a Romics non potete incontrarmi perché non abbiamo ancora aggiunto 15.000 iscritti ovvero ragazzi il traguardo che ho fatto che ho scelto io diciamo per mostrarmi in Facecam quindi insomma se a Tobre arriveremo a 15.000 iscritti io mi mostrerò in Facecam e se volete appunto venire al Games Week mi potete riconoscere in caso contrario ragazzi mi dispiace ma insomma verrò a Romics però non mi riconoscerete quindi nulla prossima domanda ragazzi ce la fa Alex Mods che ci chiede fuck Fox hai mai avuto una PSP e hai mai giocato a GTA Liberty City Stories grande Fox continuo così allora ti ringrazio per il complimento Alex si ho avuto una PSP ovviamente ho giocato a GTA Liberty City Stories è stato uno dei miei primi GTA che ho giocato ovviamente è stato prima San Andreas vabbè quello è abbastanza scontato e comunque si ci ho giocato era veramente un gioco veramente fantastico e niente prossima domanda ragazzi ce la fa Stex che ci chiede fuck ho due o tre domande da farti allora la prima è fare mai un vlog ho risposto appunto nelle domande precedenti due domande fa ho detto appunto che ai 15.000 sit ti farò il primo vlog del canale e la seconda è che microfono usi per registrare allora io utilizzo un iPhone 5C insomma un semplice iPhone 5C per registrare la voce e terza domanda potresti elencarci le prestazioni del tuo PC allora io ho un PC Intel Core i3 con una Nvidia Geoforce da un gigabyte con 4 giga di RAM queste sono le statistiche le prestazioni insomma non vi vado a dire nel dettaglio i PC perché non è che so dire tutte le cose le prestazioni però dico le prestazioni base insomma queste sono appunto le prestazioni base prossima domanda ragazzi ce la fa Michele Ponticelli che ci chiede fuck ti vergognavi quando hai fatto i tuoi primi video bella Fox allora bella Michele mi vergognavo non mi vergognavo cioè è brutto sentirsi dire vergognavo però comunque ero un po' teso perché comunque erano i primi video su YouTube quindi insomma immaginate insomma un po' la tensione non sai quello che dire quindi si diciamo se vogliamo dirla così un pochino all'inizio si di vergogna ma poi è passata subito dopo 2-3 video comunque mi ero adattato eccetera eccetera comunque prossima domanda ragazzi ce la fa l'UK7 che ci chiede fuck che acquisti potrei fare per iniziare a fare gameplay di GTA quanto dovrei spendere allora prima di tutto se fai gameplay di GTA non so quante probabilità hai di poter far crescere il tuo canale insomma perché ormai mezza YouTube Italia fa video di gameplay di GTA quindi insomma dovresti fare gameplay originali che nessuno ha mai fatto magari qualcosa di originale appunto su GTA che nessuno ha mai fatto e quanto dovrei spendere ti consiglio di acquistare prima di tutto un Game Capture in HD perché comunque sia Game Capture comunque ce lo devi avere se vuoi registrare su All Gen invece se ti prendi appunto Next Gen hanno il PVR integrato almeno la PS4 Xbox One non lo so e registri direttamente dalla PS4 però se vuoi fare appunto video su PS3 Xbox 360 ti consiglio la Vermedia Game Capture HD perché quella costa intorno ai 80€ nemmeno troppo insomma e puoi registrare i tuoi gameplay abbastanza in HD diciamo si puoi registrare i tuoi gameplay in HD e nulla prossima domanda ragazzi ce la fa salvo PSN che ci chiede fuck mi ero scordato che era l'ultima domanda effettivamente infatti appena l'ho letta ho visto che era l'ultima domanda perché io metto sempre queste domande voi lo sapete in ogni fuck io metto sempre queste domande e io dico ma che cioè io non ho parole ragazzi io ve la faccio leggere a voi perché non proprio non leggetela e capite insomma se questa domanda ha senso quindi cioè Fox faresti una sega al primo che ti passa ma raga ma che cioè ma che domande sono mi spiegate che domande sono almeno fate domande serie del tipo vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere meglio comunque ragazzi spero che questo quinto ragazzi episodio delle fuck vi sia piaciuto in tal caso vi ricordo di lasciare un bacio a questo video per supportarmi e di iscrivetevi al canale se non siete ancora per non perdervi nuovi video raggiungiamo raga almeno 250 like e vi porto il prossimo episodio delle fuck vi invito inoltre a passare nella pagina facebook dove troverete il link in descrizione e di entrare ragazzi nella crew che è aperta a tutti se trovate posto e a breve ogni volta dica breve insomma quando ho un minimo di tempo per creare questa benedetta seconda crew per ps4 visto che la prima ha raggiunto il limite massimo lo metterò il link in descrizione e vi dirò anche nel video che ho creato la seconda crew comunque nulla noi ci sentiamo ad un prossimo video un saluto da Foxound della